Immaginate di entrare in un museo in cui oltre a venire a contatto con la storia del luogo potrete conoscere anche quello che c'è da visitare e da scoprire in zona, ma proprio quest'ultima operazione avviene attraverso l'interazione audiovisiva grazie alla quale il visitatore viene immerso nei luoghi. Ecco a voi il museo esperienziale diffuso, progetto elaborato da Paolo Imperitura in qualità di responsabile del settore cultura d'Italia del Meridione su idea del consigliere regionale del gruppo, Oliverio Presidente, Orlandino Greco. Per il momento il Med troverà casa in cinque città, ossia Ciro Marina, Fuscaldo, Stefanacconi, Borgia e Siderno. Proprio ieri mattina il progetto è stato presentato a Siderno dal leader d'Italia del Meridione Orlandino Greco, dal vicepresidente regionale di IDM Domenico Frammartino, dal coordinatore di IDM Giovani Calabria Luigi Lupo. Importante è anche il commento dell'assessore del comune di Siderno, Ercole Serra, felice di ospitare questa idea innovativa che di sicuro potrà contribuire al rilancio del comparto turistico. Infatti il museo esperienziale va inquadrato in un'ampia operazione di diffusione delle bellezze calabresi perché attraverso i video che verranno trasmessi all'interno dei cinque musei si potrà venire a conoscenza delle peculiarità di intere zone. L'obiettivo è quindi lo spostamento del flusso dei turisti nei luoghi rappresentati, un progetto innovativo per la Calabria e per l'Italia già messo in piedi in Francia dove ha fatto registrare ottimi risultati. Ogni video va considerato come una passeggiata attraverso i luoghi, le bellezze naturalistiche, le no gastronomie e le caratteristiche delle aree filmate. In questo modo l'esperienza audiovisiva stimola il desiderio di recarsi direttamente sul posto. In questa caratteristica che penetra nella psicologia del turista inteso come soggetto a caccia di nuove emozioni trova forza il progetto del MED.